Radio Radicale, siamo con Giorgio Frasca Polara, uno dei giornalisti di lungo corso qui nella sala stampa di Montecitorio, è stato capo ufficio stampa di Nilde Iotti e giornalista dell'Unità. Lo facciamo per parlare della scomparsa di Rossana Rossanda. Nel 1969, Giorgio Frasca Polara... 69! 69, ho detto 69. Nel 1969, Giorgio Frasca Polara lavorava al quotidiano l'Unità e ha seguito anche i lavori del Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano che sancì l'espulsione del gruppo, la radiazione del gruppo del Manifesto. Allora, in quel periodo che cosa facevi? Ci spieghi che ricordo hai di quel... Io sono tra i relativamente pochi che hanno vissuto dall'interno della riunione del Comitato Centrale della Commissione Centrale di Controllo la drammatica, lunga seduta in cui si decise la radiazione dei tre che insieme a Lucio Magri venivano appunto radiati. Rossana fu la prima dei tre, Pintor e Natoli erano gli altri due, fu Rossana la prima dei tre e la prima a intervenire, diciamo, mezz'ora, tre quarti d'ora dopo la relazione di Alessandro Natta. Ricordo perfettamente le parole con le quali Rossana confermò con fermezza e anche con una qualche suavità perché lei era una persona civile, soave, con cui insistente. Le ho scritte, un gesto di obbedienza forse ci acquieterebbe, ma spegnerebbe coerenza morale e peso di responsabilità. Ecco, in queste belle e semplici parole c'era un po' tutta la conclusione rassegnata alla radiazione. Attenzione, radiazione significa estraneità al partito, non espulsione che è la cacciata. Sarebbe stata una misura assai severa e assolutamente incomprensibile, per me è incomprensibile anche la radiazione, ma questo è un altro paio, un altro paio di maniche. E la cosa più interessante è stata, è stata, è rappresentata dal, dal, dai resoconti. C'era una procedura un po' burocratica, per la quale se erano membri del comitato centrale o della commissione di controllo senza altri e più verticistici incarichi, ai compagni toccava un resoconto di una cartella e mezzo. Per i BING, i membri di direzione, i membri del vertice della commissione di controllo toccavano mediamente tre cartelle, più o meno. E dunque per Rossanne, Anatolio e Pintor avremmo dovuto fare una cartellina e mezzo. E io dissi agli altri resocontisti che secondo me era ingiusto. Non solo ingiusto, ma inutile e controproducente, ridurre, ridurre a una cartella e mezzo l'intervento dei tre che avevano motivato un gesto così significativo e importante e drammatico come insistere nella loro decisione. Fummo tutti d'accordo tra i resocontisti. I resocontisti erano tutti i redattori dell'Unità e i resocontisti erano pressa poco, ogni volta una diecina. E allora io andai come capo dei resocontisti, andai da Natta, da Alessandro Natta. E gli posi la questione esattamente... Natta che era il... Natta era... sarebbe diventato il segretario del partito. Sì, sì, ma in quel momento? Era vice segretario del partito. E posi la questione in questi termini. Dico, guarda, non è solo una questione di ridurre all'essenziale, è anche una questione di evitare che due ore dopo, ai giornalisti cosiddetti borghesi che sostavano nell'androne del bottegone, risparmiare le voci, le indiscrezioni. Invece un resoconto, perché i nostri resoconti andavano anche ai giornalisti dei giornali cosiddetti, che allora si chiamavano i cosiddetti borghesi, dare un resoconto realistico. Natta fu assolutamente d'accordo, senza discussione. E noi potevamo scrivere tre resoconti ampi che davano il senso preciso della loro posizione. Quindi non venne tagliato nulla di quello che loro avevano detto? Ma ci mancherebbe. Fu una testimonianza, da un lato, di onestà intellettuale di Natta. Dall'altro, noi resocontisti rivendicammo di avere fatto il nostro dovere di giornalisti, francamente non ci furono obiezioni, ex post, ma per la verità non ci furono nemmeno né ringraziamenti né apprezzamenti da parte di chi che sia, anche dei tre interessati. Senti, chi gestì l'operazione della radiazione del gruppo del manifesto? Allora, Longo nell'ottobre del 1968 ebbe un ictus, come tutti ricordano, dopo i fatti di Cecoslovacchia. Allora, la palla... Al congresso di Bologna, lui era già malandato, insomma. Quindi la gestì Longo, il vice segretario, chi era napolitano, forse? Era Berlinguer. Era Berlinguer. La gestì non tanto Berlinguer quanto tutto il gruppo dirigente del... Quindi Berlinguer era d'accordo con Longo? Sì, era d'accordo con Longo, insomma, sì, sì, sì. Secondo voi la cosa che aveva fatto traboccare il vaso era stata più la fondazione del manifesto o la posizione che avevano assunto i dissidenti del manifesto? No, io credo che era in sé la fondazione del manifesto. In sé, cioè quando allora la fondazione del manifesto fu considerata una deviazione, una insubordinazione alla linea del partito. Voi all'epoca... Voi chi? Voi nel senso nel Partito Comunista, nel giornale, si discusse del fatto che la questione della radiazione degli esponenti del manifesto poteva avere un grosso contraccolpo per l'immagine del Partito Comunista come Partito Democratico che cacciava delle persone che avevano una posizione così, assunto una posizione così chiara sui fatti che c'erano stati nel 68? Io non credo, non credo non solo perché i risultati elettorali non confermarono questo tuo sospetto. Però crebbe molto il Movimento Sociale Italiano nel 72 anni. Sì, sì, crebbe soprattutto nel Mezzogiorno, crebbe... Noi non parliamo poi in Sicilia, ma non ebbe nessun rapporto, si stabilì alcun rapporto con la vicenda del manifesto. Ho capito. Assolutamente. Il PC persevo, ci fu questa nascita di forze extraparlamentari, la nascita del PDUP? Certo, i cosiddetti irradiati furono tra quanti dettero vita a PDUP, poi lasciarono anche il PDUP e andarono per conto loro, ma certo era inevitabile che questa componente, diciamo che questa componente, la componente del manifesto, avesse una sua forza, una sua fisionomia, anche un suo prestigio. Hai mai pensato tu personalmente, se fossero rimasti, se il Partito Comunista avesse evitato quel tipo di processo, ecco, non sarebbe convenuto a tutti per dimostrare che il Partito Comunista era un partito plurale, democratico, che sapeva dialogare anche al suo interno? Scusa, la storia non si fa con i sì. Non ti è capitato mai di pensarci? La storia non si fa con i sì. Se poi tu mi chiedi la mia opinione personale sulla radiazione, ti dirò che io sarei stato contrario alla radiazione, ma questo è un sentimento, un'opinione, che fu in quel momento piuttosto frequente, anche proprio all'interno del giornale, all'interno dell'Unità. Ho capito. Bene, ti ringrazio molto per averti fatto perdere questo tempo, per raccontarci una parte importante della storia del Partito Comunista che hai vissuto in prima persona. Io ringrazio te e Radio Radicale per l'ospitalità che ci offrite ogni volta che ce lo proponete. Grazie Giorgio Frasca Polaro.